Ciao ragazzi, oggi vi voglio soltanto mostrare una cosa che ho realizzato questa mattina e ne sono orgogliosa. Ho realizzato un ciondolo con le twin della preziosa, questo pacchettino l'ho acquistato da Perle S&Co, un ordine che ho fatto settimana scorsa e mi è arrivato l'altro ieri. Il colore che ho utilizzato è il brown iris, è un colore veramente magnifico, li ho uguali anche in ematite se non ricordo male. Inizialmente volevo realizzare un paio di orecchini incastonando dei rivoli da 12 o leave-in che avevo lì da diverso tempo e volevo realizzare questi orecchini per fare fuori i due rivoli. Ma mentre stavo realizzando il primo mi sono messa a creare, creare, creare e a fare di rigori diciamo e mi è uscito fuori il ciondolo che adesso vi mostro. E' un ciondolo quindi io spero che non esista già, nel senso che io l'ho fatto con tutta la mia fantasia. Se dovesse essere già stato ideato, vabbè insomma sono due. E' questo qui, allora adesso vi devo mostrare, purtroppo la luce è quella che è, eccolo qui. E' questo ciondolo qui, appunto vabbè dal vivo rende molto di più, poi la luce. La modifica che vi dicevo è che invece di usare dei biconi da 3 mm lo rifarei con dei biconi da 2,5 mm che secondo me rende il lavoro un po' più, come posso dire, un po' più uniforme. Ecco, non so, questa è la mia impressione. Quindi questo è il mio ciondolo che ho chiamato Twin Maya, perché un po' comunque ricorda i Maya. Insomma, io poi sono appena stata in Messico, per cui insomma ogni minima cosa mi ricorda il meraviglioso viaggio che ho fatto. E niente, ecco, io ne sono rimasta veramente soddisfatta. Lo vorrei rifare, utilizzando l'altro colore delle Twin che appunto vi ho detto che ho. E niente, ditemi cosa ve ne pare e niente, aspetto vostri consigli o comunque vostre critiche in merito. Vi mando un bacio, ciao alla prossima! Grazie a tutti!